Febbre alta, tosse, raffreddore, mal di gola, malessere generale, qualche volta sintomi gastrointestinali. Ci siamo, l'influenza sta entrando nel vivo della stagione, con i casi che continuano ad aumentare mentre il picco è atteso nelle prossime settimane. Si tratta comunque di una stagione più leggera rispetto alle due che l'hanno preceduta. Diciamo che noi la malattia influenzale la viviamo di riflesso, perché fondamentalmente è una malattia gestita dai medici di base e dalle famiglie. Noi dovremmo gestire e gestiamo solamente le complicanze, che rispetto agli anni precedenti non è variato. Non abbiamo avuto un incremento o un acuzio di questi sintomi. Diciamo un normale andamento stagionale. È chiaro che le persone a rischio rimangono a rischio anche se c'è un picco influenzale. A loro purtroppo bisogna stare attenti per dare più cure. Infatti esiste la vaccinazione che si fa in preventiva nel mese di ottobre e novembre. Infatti le persone vaccinate molto probabilmente avranno sintomi più leggeri rispetto a quelli che non sono stati vaccinati. Oltre a tosse, raffreddore, mal di gola, gli altri sintomi caratteristici sono malessere generale e febbre alta, a esordio improvviso e che può durare anche una settimana. In alcuni casi andando anche ad intervalli, due o tre giorni di febbre, poi un ritorno a temperature normali, poi altri due o tre giorni di febbre. Malanno di stagione è cercare di stare il meno possibile a contatto con gli altri, soprattutto con quelli ammalati. La cosa più importante è lavarsi le mani molto spesso, lavarsi le mani con sabone o soluzioni alcoliche, diciamo quelle già pronte che le vendiamo in commercio. E poi casomai quando si starnutisce, si starnutisce in un fazzoletto, si starnutisce per non diffondere il virus. Questi sono principi basilari che dovrebbero insegnarle a scuola. L'altra influenza invece, quella che sta preoccupando il mondo in queste ultime ore, arriva dalla Cina. Appartiene sempre al ceppo dei coronavirus, ma anche su questo aspetto il dottore liberatore natale del pronto soccorso di Campobasso libera il campo da allarmismi spesso inutili e dannosi. Di fronte a questo problema noi ci rendiamo conto che è un problema mediatico, che nel senso che una città cinese di 11 milioni di persone che ha avuto un nuovo contagio genera la preoccupazione in Cina. Diciamo noi siamo in Italia, diciamo siamo isolati da questo mondo, diciamo tutte le persone che vengono da lì le monitoriamo quando arrivano. Infatti ieri è il primo aereo che è arrivato da questo paese, è stato monitorizzato, tutte le persone sono state visitate, nessuno di questi aveva sintomi influenzali. Ma poi fondamentalmente non bisogna aver paura di questo virus, è un coronavirus, è un virus diciamo del raffreddore normale, casomai è nuovo e crea le stesse complicanze che creerebbe un virus influenzale o coronavirus che già conosciamo. Noi, io non sono preoccupato per queste cose, è chiaro che le persone diciamo malate, che hanno problemi cronici, sono più a rischio, ma noi cerchiamo di tenerle isolate e poi le possiamo curare benissimo come curiamo gli altri.